Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, un incendio si è sviluppato oggi nel primo pomeriggio in una villetta schiera di via Raffaello Sanzio ad Arezzo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del vicino comando provinciale che hanno trovato le fiamme diffuse in particolar modo nel primo piano dell'abitazione. Il ruogo è stato prontamente spento dalla squadra. Nella casa si trovava una donna rimasta illesa grazie al fatto che era riuscita ad uscire in tempo autonomamente dal suo appartamento. Oltre ai pompieri, anche i sanitari dell'emergenza urgenza, la polizia di Stato e la polizia municipale. Il comune di Arezzo invece ha disposto con un'ordinanza del Servizio Ambiente, Clima e Protezione Civile il divieto di balneazione nella vasca piccola del palazzetto del nuoto Centro Sport Chimera. Un provvedimento che si è reso necessario a seguito dei risultati delle analisi microbiologiche nell'acqua effettuate dall'Asla che hanno evidenziato il rischio sanitario legato alla presenza di stafilococco superiore ai parametri previsti. La vasca tornerà ad essere agibile quando gli stessi rientreranno nei valori stabiliti dalla normativa vigente. E adesso sentiamo invece le parole di un esperto che ci dà consigli rivolti alla popolazione anziana per l'arrivo delle temperature più rigide anche alla luce dell'aumento dei casi Covid. Consigli preziosi dal reparto di geriatria dell'ospedale San Donato di Arezzo per tutta la popolazione anziana anche in considerazione del fatto che sono aumentati i casi Covid. Purtroppo ci si sta sempre più rendendo conto che anche il Covid è una malapatologia stagionale quindi risente soprattutto della temperatura fredda. Infatti anche qui al San Donato abbiamo una ripresa della malattia. Abbiamo attualmente circa 30-35 pazienti ricoverati all'interno dell'ospedale. Nel reparto di geriatria sono 5 pazienti ad oggi ricoverati. Questa variante di Covid comporta dei danni minori dal punto di vista dell'apparato respiratorio però mi determina sempre una situazione di disturbi delle alte vie aeree e in casi più rari però porta sempre a polmonite. Quindi anche in questo caso è importante come per la vaccinazione influenzale ricorrere alla vaccinazione anti-Covid perché ci protegge dall'infezione e soprattutto fa sì che anche se io contraggo l'infezione la contragga con una forma molto più leve se non sono vaccinato. È una raccomandazione che vale dottore anche per i caregiver cioè coloro che si occupano degli anziani che magari ci convivono. Sì, ormai abbiamo visto che la vaccinazione è utile in tutte le fasce di età. È ovvio che nei soggetti anziani con polipatologie sono ancora maggiormente a rischio e quindi è più importante. Però anche nelle badanti, caregiver, familiari che vivono costantemente a contatto con il paziente anziano è importante anche che si siano protetti. I consigli invece da un punto di vista del comportamento e dell'ambiente sono sempre gli stessi stare al caldo e vivere all'esterno nelle ore più calde della giornata. Il soggetto anziano deve cercare di soggiornare in un ambiente preferibilmente caldo con una temperatura media ambientale che si aggira intorno a 20-22 gradi. Essere coperto soprattutto nelle zone, chiamiamole, più importanti del nostro corpo quindi da parte toracica con il cuore e al tempo stesso avere un'adeguata alimentazione e prevalentemente idratazione con idratazione con bevande generalmente calde e non tanto acqua fredda o sostanze fredde. È importante l'attività, quindi il movimento. È ovvio che a differenza del periodo estivo dove si consiglia maggiormente le ore più fresche della giornata quindi la mattina e il tardo pomeriggio sera al contrario in inverno è preferibile fare delle uscite soprattutto nelle ore più calde della giornata quindi nel periodo pre o post-prandiale che intorno a 12-14-16 sono le orari un pochino ancora dove il sole è presente e quindi dove abbiamo una temperatura maggiore. Hanno preso avvio le due giornate per aumentare ulteriormente la copertura vaccinale contro il Covid gli Open Day proseguiranno anche nella giornata di domani. Per l'occasione è stata ampliata la normale offerta dei centri di vaccinazione chi ha più di 18 anni potrà vaccinarsi senza prenotazione semplicemente accedendo ai presidi sanitari dedicati. Sentiamo i consigli dell'azienda sanitaria. Il ritorno del Covid e l'influenza stagionale stanno mettendo a letto in questi giorni migliaia di italiani eppure soprattutto il Covid non fa più paura tanto che la campagna vaccinale è un vero flop va meglio per il vaccino antinfluenzale. Il picco dei contagi secondo i medici è ancora lontano si parla di gennaio-febbraio 2024 l'invito è quindi alla vaccinazione rivolto in questo caso ai ritardatari e soprattutto a coloro che sono a contatto con persone fragili. Lei lavora nel reparto delle malattie infettive qual è il quadro attuale tra Covid e influenza stagionale? Allora assolutamente diciamo che Covid ancora se ne vedono si vedono molti pazienti positivi anche con altre problematiche chiaramente esistono ancora comunque le polmoniti da Covid chiaramente soprattutto nelle persone fragili nelle persone anziane o con patologie importanti e quindi si raccomanda comunque l'adesione soprattutto delle categorie a rischio alla vaccinazione sia per quanto riguarda il Covid che per quanto riguarda l'influenza. Abbiamo già avuto dei casi di influenza e non siamo ancora al picco e pertanto siamo ancora in tempo a vaccinarsi. E proprio all'ospedale San Donato di Arezzo oggi è arrivata una delegazione di carabinieri assieme a Babbo Natale per far visita ai piccoli ricoverati nel reparto di pediatria. Matite colorate, penne, caramelle e zainetti con il logo dell'arma dei carabinieri. A portarli il regalo ai piccoli ricoverati nel reparto di pediatria del San Donato una delegazione del comando provinciale dei carabinieri di Arezzo Presente anche Babbo Natale che ha consegnato personalmente i regali ai bambini ricoverati accompagnato dagli Elfi e con il sottofondo musicale della filarmonica Guido Monaco. Un appuntamento annuale che si ripete da molti anni e che fa molto felici noi dello staff e tantissimo le famiglie e i bambini ricoverati. Un modo per portare vicinanza ai piccoli ricoverati e regalare un sorriso facendoli sentire meno soli in un periodo dell'anno solitamente all'insegna della festa in famiglia. In questo momento noi stiamo accogliendo una serie numerosa di bambini con patologie acute influenzali, infettive delle vie respiratorie dove l'adegenza è una degenza breve con una prognosi di risoluzione completa nel giro di pochi giorni. Purtroppo ci sono anche bambini e ragazzi con patologie più prolungate che dovranno sostare anche durante il periodo proprio del Natale e dei giorni successivi. Parliamo adesso di economia. Le esportazioni della provincia di Arezzo sulla base dei dati provvisori pubblicati dall'Istat si sono attestate nei primi nove mesi del 2023 a circa 7,8 miliardi di euro. Dopo due trimestri caratterizzati dal segno positivo nella terzo si è registrata però una brusca battuta dal resto meno 8,1%. Arezzo si conferma comunque la seconda provincia in Toscana per fatturato proveniente dalle attività di export che rappresenta il 18,4% del totale regionale. Bene, prodotti alimentari, apparecchiature elettriche ed elettronica, inflessione invece, metalli preziosi, bevande, prodotti chimici e mezzi di trasporto. E adesso passiamo alla politica. È infatti tornato oggi a riunirsi il Consiglio Comunale che ha approvato su proposta dell'assessore Alessandro Casi con 17 voti favorevoli e 10 contrari la variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e il relativo elenco annuale 2024. Sono state inserite per il 2026 due rotatorie, una all'incrocio tra via Signorelli e Vellegiotto e una tra Salleo, la strada statale e via Molinara. Una quota di investimento per viabilità e mobilità urbana pari a 628 mila euro. Discoverte del Consiglio Comunale anche al bilancio di previsione 2024-2026 con 19 voti favorevoli e 10 contrari. Per quanto riguarda il 2024 sono oltre 101 i milioni che costituiscono la parte corrente di cui 68 di entrate tributarie e 18 extra tributarie. Il resto sono trasferimenti. Voltiamo pagina. Questa sera dopo il nostro TG andrà in onda l'intervista di Alessandro Artini al rabbino Riccardo Disegni. Vediamone un piccolo estratto. Io in questi giorni, glielo dico come uomo di scuola anche se sono in pensione attualmente però ho fatto il dirigente scolastico, in questi giorni sta girando nelle chat scolastiche anche in quelle, soprattutto in quelle non ufficiali, una lettera di movimento degli studenti che invitano i dirigenti scolastici, i presidi e i docenti a prendere posizione contro questo massacro, anzi contro il genocidio che viene perpetrato ai danni dei palestinesi. Guardi, gliene leggo un pezzo. Così come, sì, allora, i palestinesi sono vittima di questo genocidio, così come la popolazione ebraica si è trovata braccata per secoli a casa propria ovunque essa fosse in giro per il mondo. Ma decontestualizzare sarebbe gravissimo. Non si può sicuramente identificare in Hamas tutta la popolazione palestinese però è opportuno che le scuole, i dirigenti scolastici, i docenti prendano posizione. Non le nascondo che a me come ex dirigente scolastico la cosa provoca qualche fastidio perché io penso che la scuola, i dirigenti scolastici, i docenti non debbano prendere posizione ma debbano seguire piuttosto la lezione deberiana per cui si tratta di fornire agli alunni una situazione tale perché poi gli alunni maturino e lavorino autonomamente delle posizioni. Però questo è il mio modo di vedere le cose da uomo di scuola. Lei che cosa direbbe a questi alunni che invitano scuole, dirigenti e docenti a prendere posizioni? Allora, intanto vorrei fare riflettere su una cosa a proposito del discorso che si è fatto prima. L'uso delle parole. La parola genocidio in questo caso è assolutamente fuori posto. Non ha nessun riscontro con la realtà ed è uno dei meccanismi, quello dell'uso della parola per cancellare il vero genocidio. è un modo per ribaltare completamente la realtà. Quindi noi siamo di fronte a esagerazioni e falsificazioni propagandistiche di cui la provenienza è chiara e una sorta di velina che gira e che viene riproposta in maniera assolutamente così acritica che deriva fondamentalmente da una sistematica campagna di disinformazione. che cosa io direi a un dirigente scolastico di spiegare e di dare le possibilità alle persone agli studenti di crescere e di valutare criticamente perché quello che è valutato cioè la scuola dovrebbe portare a educare alla critica a una coscienza critica, a un atteggiamento critico non lo devo spiegare a lei che è stato dirigente scolastico e quindi la prima cosa che va criticata è un documento del genere cioè cosa c'è dietro? Cosa l'ha ispirato? Quali sono i problemi concettuali? Da dove viene? Quando noi vediamo una fotografia fa vedere una fotografia la fotografia ha un impatto ma poi uno dice guarda c'è il trucco c'è quello, c'è quell'altro bisogna educare le persone se uno va a scuola non deve soltanto imparare le nozioni deve maturare la sua coscienza critica è proprio su questo che bisogna che bisogna assolutamente investire e lavorare e purtroppo è difficile farlo poi ci sono le passioni ci sono le tensioni Sentiamo adesso il messaggio di auguri per questo Natale del Vescovo di Arezzo Monsignor Andrea Migliavacca Io vorrei che arrivasse un messaggio di speranza perché ne abbiamo bisogno ne abbiamo bisogno per le nostre famiglie e per le fatiche che affrontano ne abbiamo bisogno per la nostra società che deve avere e sperimentare capacità di sguardo in avanti stimoli e risorse positive da condividere ne ha bisogno il nostro mondo soprattutto per le situazioni di guerra che ormai purtroppo ben conosciamo è un messaggio che mette al centro la speranza quello che il Vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro destina appunto alla diocesi Aretina Il Natale vuole essere motivo di speranza non perché come poesia come sguardo romantico vogliamo dire che le cose vanno bene ma perché c'è una speranza che viene dal farsi vicino di Dio dal portare la sua presenza e il suo amore Lui ci regala l'amore che è il Natale e quella diventa la strada per portare speranza nel mondo Lei adesso conosce un po' di più la comunità Aretina rispetto ovviamente all'anno precedente era appena arrivato sono stati lanciati più appelli da più parti per le nuove povertà insomma cosa si sente di dire per questo? Noi come Chiesa soprattutto attraverso la Caritas ci stiamo muovendo per dare anche risposte nuove a queste povertà che si presentano che sono nella quotidianità talvolta nella realtà normale delle famiglie e quindi vuol dire attivare vicinanza ascolto, sportelli di ascolto capacità e realtà di accompagnamento e di risposta anche ai bisogni primari tante volte che richiedono riservatezza ma pronta risposta Lei ha fatto anche alcune nuove nomine e mi verrebbe da chiederle dal punto di vista ecco della vocazione insomma ovviamente la Chiesa è un punto di riferimento voi siete delle guide spirituali per ogni comunità più grande o più piccola quanto aggrega questa Chiesa? Aggrega quanto lei vorrebbe? O potremmo fare di meglio? Il meglio si può sempre fare e quindi credo che noi come diocesi le comunità, le parrocchie, i gruppi devono sentirsi sempre incoraggiati e sostenuti nell'essere capaci di annunciare non per fare proselitismo come dice il Papa appunto ma perché abbiamo qualcosa di bello da condividere e allora verso tutti soprattutto verso i giovani e anche nel campo dell'educazione credo che dobbiamo vivere un impegno sempre maggiore che sia di prossimità cioè di presenza lì dove le realtà di vita ci sono E proprio a Monsignor Migliavacca questa mattina è stato consegnato il personaggio del Presepe 2023 che è l'apprendista con il maestro imprenditore che rappresenta dunque la trasmissione del saper fare attraverso le generazioni Prosegue così dopo i primi tre anni l'iniziativa promossa in tutta Italia da Fondazione Simbola con Fartigianato e col Diretti con l'obiettivo di aggiungere al Presepe figure che ci parlino del presente ma anche del futuro E sono tante particolari anche ad Arezzo le rappresentazioni della Natività andiamo a vederne due che si trovano al Dorciolaia Un piccolo sassolino a rappresentare il Gesù Bambino accanto a altre quattro pietre Maria, Giuseppe, il Bue e l'Asinello è senza dubbio un presepe quanto originale quello allestito all'Orciolaia interamente realizzato con le pietre Posso fare tante cosine si è iniziato a fare da noi questa cosa la gente piaceva e da lì in poi con un amico mio che si chiama Pasquale abbiamo creato questo presepe quest'anno l'abbiamo un pochino ampiato su quella specie di montagna diciamo che viene giù acqua e da lì c'è questo ruscello che va verso questi aratroccoli fatti sempre di pietra e dà quell'impressione veramente abbastanza bene ecco si vede che la gente ha apprezzato tanto questa piccola cosa poi ci sono questi balconcini ripiegati di rame fatti bombati che sono molto molto laboriosi ma sono da vedere sempre all'Orciolaia un'altra rappresentazione della natività quella creata da Giuseppe Marconi che anno dopo anno si arricchisce sempre più è un gioiello che sta qui tutto l'anno che per Natale si rinnova sempre si modifica che ha portato un sacco di lavoro e niente però è una soddisfazione perché poi con tutti i nipoti che ho oggi è bello ritrovarsi con i nipoti qui a vedere davanti al presepe questa cosa che ho fatto che ho sempre avuto fin da bambino l'idea di fare il presepe e quindi adesso ce l'ho tutto l'anno perché non lo tocco perché ci vogliono i messi per poterlo fare tanti personaggi che si muovono la caratteristica è questa un po' tutti i mestieri sono rappresentati perché nel presepe logicamente un po' tutti quelli che sono in attività vanno rappresentati poi visto abbiamo anche le eventi atmosferici i lampi le stelle le stelle e la cometa e ci nevica è molto bello è molto suggestivo a vedere di notte che sta nevecando è un bianco addirittura però è un tipo di materiale che non bagna quindi non ci sono bello Natale è anche tempo di dolci natalizi tra le particolarità retine il pan di bacco vediamo il servizio il pan di bacco che è un lievitato con uvetta sultanina e bagnato con un mix di liquori noi abbiamo scelto di fare di prendere liquori della tradizione e quindi diciamo che è il nostro piccolo segreto che dona a questo prodotto una bontà infinita soprattutto dopo due, tre, quattro mesi allora andiamo a vedere come lo prepara Menchetti questo pan di bacco qualche segreto riesci a darcelo? come ripeto il segreto principale è usare ingredienti di prima scelta e usare un uvetta sultanina australiana che non è trattata con una rivide sorporosa e diciamo è un burro di qualità poi il resto è la sapienza dei nostri pasticceri che lo fanno diventare un dolce per il padre negli ultimi anni abbiamo cercato di fare anche una versione molto difficile era una sfida fare un pan di bacco con il grano verna sappiamo benissimo che la farina verna ha un W intorno a 80 100 W quindi è difficilissimo fargli evitare questo prodotto ma credo ci siamo riusciti abbiamo diversificato la bagna al suo interno abbiamo fatto una versione con del cioccolato e credo che vedendo anche le vendite il prodotto è riuscito quindi partiamo dalla prima fase il pan di bacco viene impastato impastato con farina uova burro e zucchero e c'è del miele e all'ultimo viene aggiunta l'uvetta sultanina viene staccato viene lavorato rigorosamente a mano per almeno due volte in modo che la pasta possa rilassarsi e poi riprendere una volta che viene messa nel pirottino in questo momento loro stanno spezzando a mano stanno facendo riposare pensando il prodotto facendo riposare nelle assi di legno per un paio d'ore dopodiché avviene la pirlatura questa è una tecnica manuale che serve a chiudere bene la pasta ok all'interno viene fatta manuale viene appoggiato nel pirottino vorremmo anche in futuro mantenere questa artigianalità e credo che solo così possiamo ricordarci dei nostri nonni e pensare a un futuro migliore tanti anche gli eventi di Natale la Pieve ha ospitato il concerto racconti di Natale tra favole e realtà organizzato dall'associazione Voce in Canto Narrazione, canto, musica, danza e linguaggio dei segni racconti di Natale tra favole e realtà è il concerto dell'associazione Voce in Canto che ha deciso di raccontare il Natale della Speranza faremo la favola di Natale di Guareschi è una favola particolare che è stata scritta in un momento particolare è stata eseguita e scritta nel 1944 all'interno di un campo di concentramento e raccoglie al suo interno veramente tanta tanta speranza e questo è il nostro messaggio veramente principale intorno a questa favola di Natale abbiamo come cornice all'inizio il nostro coro mani bianche che ci introdurrà all'interno del Natale con una fantasia di Natale e due brani dedicate all'inverno finita la favola cambieremo proprio diciamo giriamo pagina e ci dedicheremo al jazz in Pieve riunite tutte le formazioni corali dell'associazione assieme a loro anche tanti altri professionisti la poesia è un uccellino un uccellino fatto da cielo azzurro impastato in un raggio di luna la poesia dunque spiccò il volo e via per l'entra nella nostra favola di Natale l'idea è proprio di dare una rappresentazione non solo raccontando abbiamo un attore abbiamo un corpo di ballo abbiamo degli strumenti strumenti particolari proprio perché ricordano gli strumenti che venivano trovati anche all'interno del campo di concentramento e abbiamo Alpha Ballet che collaborerà con noi e abbiamo Ciro Rossi che è il nostro attore il nostro narratore che ci racconterà la favola sono gli spiriti dei vivi che vengono a cercare i loro morti torna con una nuova edizione straordinaria nella cornice del giardino pensi del palazzo della provincia nel cuore dunque della città Arezzo selezione vintage la manifestazione fieristica dedicata al vintage aprirà le porte ai curiosi da appassionati il 22 e il 23 dicembre ed accoglierà circa una decina di selezionati espositori di abbigliamento e accessori d'epoca provenienti da tutta Italia e adesso passiamo alla pagina dello sport l'Amen BC Servizi ieri ha battuto in casa la capolista Cecina un appuntamento segnato anche dal ricordo di Carlo Benucce del vicepresidente della federazione italiana pallacanestro Gaetano la guardia recentemente scomparsi ma innanzitutto complimenti a tutti allo staff ai giocatori perché questa era una partita di quelle che si potevano mettere perse invece grande grinta un ritmo altissimo e siamo riusciti a vincere anche con merito perché insomma non è che siamo stati sotto molte volte l'Amen BC Servizi Arezzo si regala un gran bel Natale battendo la capolista Cecina al Palaestra con il finale di 72 a 64 la partita è iniziata con un minuto di silenzio in ricordo di Carlo Benucci voce storica del basket a retino e non solo scomparso pochi giorni fa questa vittoria è dedicata da tutto lo staff della SBA da tutti i giocatori da tutti i tifosi al nostro caro amico Carlo Benucci che ci ha lasciato qualche giorno fa questa vittoria era per lui e i ragazzi hanno messo tutto quello che potevano quindi siamo veramente contenti di questa doppia cosa la vittoria sul campo e la vittoria dedicata a Carlo grazie aveva iniziato meglio il Cecina con i primi tre punti poi la reazione della SBA è vehemente con un parziale di 10 a 0 che costringe la panchina avversaria al primo time out le triple di Bruni e Pistolesi sul finire del primo quarto accorciano il divario tra le due squadre con l'AMNBC Servizi che dopo 10 minuti è avanti di 19 a 18 grazie ad una tripla di Toia sulla Sirena la seconda Sirena manda le due squadre all'intervallo sul 38 a 34 al rientro in campo gli ospiti recuperano con una tripla allo scadere del terzo quarto che manda le due squadre all'ultima pausa sul 51 a 49 nel quarto finale la partita scorre sull'equilibrio per i primi 5 minuti poi l'AMNBC Servizi prevale e dunque il finale di 72 a 64 consente al Palaestra di poter esultare per una vittoria guadagnata dalla squadra Amaranto con grande sudore e abnegazione si chiude così uno straordinario 2023 con l'AMNBC Servizi a quota 12 punti in classifica il campionato riprenderà domenica 7 gennaio con la trasferta a Siena in casa della Virtus si è sentito molto il calore del pubblico e di questo dobbiamo ringraziare ancora una volta chi viene a riempire il palazzetto Cecina è una squadra il cui valore non lo scopriamo oggi perché è una grande squadra grandissimi giocatori e quindi era una partita che a noi serviva come vittoria era una partita difficile dopo una sconfitta quadrata in cui venuta dopo una settimana di ottimi allenamenti e quindi ritornare in piedi dopo una sconfitta con solamente due giorni per prepararla è stata una grande risposta da parte della squadra quindi complimenti a tutti i ragazzi e complimenti a tutti che sono fatti trovare pronti contro un grande avversario e questa vittoria ci fa augurare un buon Natale a noi stessi e a chi viene al palazzetto Questa perra stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci a a che viene al palazzetto